Hai tra i 18 e 28 anni? Non lavori e attualmente non studi? Cogli questa splendida occasione di aiutare la nostra comunità per 12 mesi. La Gulliver cerca te e ti dà la possibilità di avere un piccolo stipendio mensile. Contattala a Onlus Gulliver, chiedi informazioni tutte le mattine in via Toscana a 111. Hai tempo fino al 21 settembre.